ben trovati un video veloce veloce per le amiche principianti sulla chiusura semplice delle maglie sono sul rito del lavoro e procediamo in questo modo lavoriamo il primo punto a dritto lavoriamo il secondo prendiamo il primo punto lavorato e lo andiamo ad accavallare sul secondo lavorato e procediamo in questo modo a chiudere tutte le maglie del lavoro che stiamo facendo tagliamo il filo e lo passiamo nell'asola procederemo poi a cucire i vari pezzi grazie grazie grazie